Il 25 maggio scorso i 751 deputati europei si apprestano a prendere parte in questi giorni alla prima sessione plenaria. A ognuno dei 28 stati membri spetta un certo numero di seggi, Cipronea 6, la Germania 96. Il Parlamento europeo non è organizzato a livello nazionale ma segue un'organizzazione transnazionale. In cosa consiste il lavoro di un europarlamentare? Per prima cosa è coinvolto nel processo legislativo europeo. Gli eurodeputati vigilano sulle altre istituzioni comunitarie, inclusa la Commissione europea. Focalizziamoci sul processo legislativo, invece. Va detto che il Parlamento europeo non si occupa soltanto di materie complesse come l'Unione bancaria, ma anche di un insieme di cose che influiscono sulla vita quotidiana. Ad esempio, poco prima dell'inizio delle vacanze estive si avrà un altro abbassamento delle spese per il roaming. E poi, quanto guadagna un eurodeputato? Il salario mensile di base è di circa 8.000 euro. Non è poi così alto. È vero però che ogni eurodeputato ha diritto a rimborsi, spese mensili e quotidiani per dover partecipare a diverse occasioni ufficiali o ai lavori della propria Commissione. Se volete fare anche voi la vostra domanda andate sul nostro sito.